ciao ragazzi e benvenuti sul canale di artista generico medio oggi siamo in compagnia del nuovo ventilatore della leader pro prodotto esteticamente davvero bello i materiali sono molto resistenti è un motore davvero potentissimo faccio vedere brevemente le sue funzioni andiamo a prendere il telecomandino e accendiamo il ventilatore possiamo vedere che anche nella parte inferiore ha gli stessi comandi del telecomando e si possono gestire anche da qui ok come funzione abbiamo il timer fino a otto ore alcune modalità per la notte che sono più silenziose le velocità del motore che sono quattro e le due diverse ondulazioni verticale ed orizzontale vi faccio vedere velocemente i suoi movimenti orizzontale poi si stoppa sempre dal telecomando lo stoppiamo e vediamo la modalità verticale devo dire che questo motore a bassi giri è silenziosissimo quando aumentiamo la potenza al quarto livello è abbastanza rumoroso però la potenza è assurda vi faccio subito vedere le quattro velocità del motore questa è la prima la seconda la seconda la terza la terza e la quarta tra le altre funzioni se teniamo premuto il tastino dell'accensione per qualche secondo diventerà rosso e questa è la funzione blocco significa che tutti i tastini verranno bloccati finchè non si sblocca ripremendo il tastino dell'accensione sempre per qualche secondo e si sbloccherà un'altra cosa molto comoda di questo prodotto è sicuramente questa taschina qui dove si può riporre il telecomando andiamo un attimo a vedere i dati tecnici di questo prodotto un'altra cosa molto comoda per la pulizia di questo prodotto è sicuramente questa vite che svitandola ci potrà far arrivare alle vendole che potranno essere pulite con molta cura quindi non vi rimane che andare su amazon e comprare questo fantastico prodotto il prezzo in questo momento è 90 euro e qui in basso possiamo vedere i dettagli tecnici per ragazzi come prodotto io lo consiglio perché è molto compatto esteticamente molto carino e il motore è potentissimo il prezzo è abbastanza onesto per il tipo di prodotto e la leader pro è una marca che sta dimostrando di creare dei prodotti buoni e di qualità con questo vi saluto ciao e al prossimo video grazie